...perchiamo per quel tipo, per questi tipi di vaccino, eh? E tu mi senta come risposta? Sì. Mi fa anche un'altra domanda? Un commento io per lo spaventare. Questa della vaccinazione dell'HPV però è una cosa abbastanza scandalosa dal punto di vista di sanità. I primi vaccini sono stati venduti a 180 euro a dose per il prodotto. Le ultime gare fatte sono state assegnate intorno ai 40, da 40 a 180, è una bella differenza. E le persone...